Asperosa, girati! Ma come vai? Come può stare oggi? Non c'è. Allora, amablemente, noi stiamo, ma è in tre. Tutta la giornata stiamo da dentro. Tranne quando ci stanno a cominciare. Allora, ma ci sono un effettore bound. Ci sta Luigi, ci sta l'effettore bound da queste. Cioè, invece di vivereci, lo stanno facendo altro che aggregare... Rosaria! Rosaria, ma tu a settembre vieni, diciamo, quando incominciamo a trattare, diciamo, le discussioni sulla disabilità? Ci vieni? No, ma non siamo tutti quanti così numerosi. Stiamo tutti quanti insieme, bello! No, ma non siamo tutti quanti. No, ma non siamo tutti quanti. Ma anche questo. Eh? Ahahahah! Ma poi, la buona ragazza! Io non c'ho la torta! Eh, vabbè, non c'ho la torta! Non c'ho la torta! Non c'ho la torta! Non c'ho la torta! Ragazzi, Marone, come lo fa con l'amministratore? Come faccio andare dall'amministratore? Ahahahah! Ragazzi, vogliamo sedere un attimo? Ragazzi, buon lavoro! A presto! Ciao, belle! Ciao, Rosaria! Ciao! Ciao, belle! Ciao, grazie! Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao, Roberto! Ciao! Ciao, Roberto! Ma non rimane, Roberto, ne vai pure tu! Stanno chiamando l'alloratore che stanno... Ok, hai ragione! Ciao! Vieni, vieni, Vincenzo! Mi sposto un poco? Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo! Vincenzo, Vincenzo! Vincenzo, Vincenzo! Vincenzo, Vincenzo! Vincenzo, Vincenzo! Vincenzo! Trafusione! Trafusione! Vincenzo, Vincenzo! Vincenzo, Vincenzo! Vogliono l'Avvocato... Ma là in Ucasina... Vincenzo! Vincenzo... Vincenzo l'Avvocato perché... Vincenzo, no, sinceramente no, a quel punto... Non la fanno scena, no? Non la fanno! Comunque lui ha un ruolo rispetto ai lavoratori e a un tue delle, che... Siamo attenti sempre quando ci sono i consiglieri che facciano un'altra cosa. Non mi ha fatto il termizio loro? No, i consiglieri non. Ma volontariamente. Poi non è sottile. La situazione è questa. Si stanno sostenendo. Non permettono al porto di Napoli e all'azienda. Sì, sì. Stai pure là, ma non so se l'hanno finita già. Stai pure là. Sì. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Automaticamente questo minuto indotto poi dopo si ripercuote sulle maestranze. Sì. Oltre che l'azienda è svistata. In altri porti, come quello di Gera Tauro, Salerno e Livus. Allora, ci vediamo. Ora si è ottenuto un più buon risultato. L'avvocato delle maestranze, dei portuali del porto della parte specie Roberto di Luzza. Che si era mossa con loro. Allora, hanno ottenuto un grosso risultato. Cioè, il risultato è quello di evitare l'esigenza vedo colettivo. Ora è la Cassa di integrazione. Ora, diciamo, i sindacati stavano parlando per la seconda parte della contrattazione. Quella di eliminare che il datore di lavoro dice io comunque devo rientrare dai costi di gestione per cui devo eliminare la parte contrattuale che c'è male. Il secondo livello. Da dove lavori chi è? Conateco. Conateco. Ancora? No, la Conateco è una società, però i due soci della Conateco... Defeo? No, quello dell'amministratore. La Conateco ha due soci che però sono molto pochi. Uno è la COSCO, quindi il governo cinese. Plino un po' d'acqua, grazie. E la seconda società è il gruppo MSC. Quindi significa praticamente il secondo operatore mondiale del settore aeroshipping. Non so, ben gennaio. Pure Vincenzo, volevo un po' d'acqua. Ti voglio dire, una buona notizia è che gli operai andranno in Cassa, diciamo, buona notizia, andranno in Cassa di integrazione interroga per 12 mesi. E voglio dire che il problema fondamentale che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sollevato è quello del piano industriale. Cioè, oltre al piano industriale che non può essere fatto perché non c'è la figura, non si è individuata nella figura del Presidente dell'autorità portuale. Di conseguenza, noi stiamo pensando come Movimento 5 Stelle di portare questo che è un argomento non solo di Chievo Campano, napoletano, ma anche a livello di Chievo Nazionale. Per cui portare questo problema a livello nazionale, facendo interagire anche i vari... Non ho bevuto, grazie, ho bevuto. Però diciamo di continuare la... Però portarlo proprio su tavoli di lavoro con i ministeri interessati, quindi delle infrastrutture, ambiente... Ambiente e sviluppo. E dello sviluppo. E quindi creare una sinergia tra i nostri portavoce campani, i portavoce nazionali e gli altri per lavori, diciamo, nazionali in merito alla figura importantissima del Presidente dell'autorità portuale. Oppure, se deve essere commissariato il porto di Napoli, commissariarlo per un lungo periodo in modo che il commissario abbia anche la facoltà di poter fare quei lavori infrastrutturali e che necessita il porto affinché possa riluppare. E lo so che non lo può fare, non lo può fare. E quindi l'unica è una forzatura, una forzatura, una forzatura. No, ma ora la cosa positiva qual è? che il Presidente, cioè la provincia, ha dichiarato anche lo stesso del lungo, è dichiarato apertamente da De Magistris, più il Movimento 5SL che, voglio dire, sta afferorando questa causa. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Un freddo? Un freddo. Un freddo. Provincia, Molune, città metropolitana e Regione, la porta alle pari per l'anzionale. E quindi questa è una, diciamo, la vittoria della buona notizia. Questo è in simbese il piano. Allora Vincenzo Resutto può parlare del piano che il Movimento, diciamo, ha le grosse vite. Visto che ultimamente si è posto il problema del ruolo del Movimento rispetto a te, quindi bisogna essere attenti perché il Movimento non ha ruolo rispetto al tema. Quindi, però, abbiamo le conoscenze. Questo è un primo punto molto, molto positivo. Massimo ha fatto una sintesi introduttiva utile. Vi ho provato a spiegare, abbiamo fatto diversi temi, diversi meet-up sul Porto di Napoli. E per poter capire che cosa sta accadendo, perché è molto grave quello che sta accadendo nel Porto di Napoli. Il Porto di Napoli è commissariato da più di due anni. Cioè non ha un Presidente. Il Presidente è una nomina che nasce con un sistema molto complicato. In pratica viene scelto sulla base di quattro designazioni. Chi le fa? Le fa il Comune di Napoli, la fa la Provincia, poi l'area metropolitana, poi la fa la Camera di Commercio e l'ultima il Comune di Castellammaro. Il Ministro, sulla base di queste quattro nomine, deve scegliere quello che poi sarà il Presidente. E quando lo sceglie si deve pure sentire con la Regione Campania per capire se la Campania è d'accordo. Però che cosa è successo? In Italia ci sono 24 autorità portuali. 24 autorità portuali che sono i porti di maggiore importanza. Attualmente i commissariati ne sono 14. Mano a mano che scadono i Presidenti, il Governo non li sta nominando. Perché? Perché c'è una riforma dei porti in atto. Perché c'è una riforma dei porti in atto? Perché l'Italia, che è il Paese in assoluto più avvantaggiato nel Mediterraneo per poter intercettare traffici. Intercettare che significa? L'economia gira oramai a livello planetario. Può piacere o non può piacere. Io non entro nel merito che la globalizzazione sia positiva o negativa. probabilmente è più negativa che positiva. Però esiste. E quindi a livello mondiale i Paesi si sono organizzati per poter ricevere merci e per poter far partire merci. Ovviamente un porto, quando è funzionale, riesce a creare di ritorno sul proprio territorio uno sviluppo economico molto interessante. Il porto di Napoli Carlo, lo metti pure a me Carlo. Uno è mio, uno è di Vincenzo. Mi metti un po' di zucchero nel fetto. Però effettivamente avere un porto che funziona significa che hai un territorio che è in grado di svilupparsi. Il porto di Napoli è uno dei più importanti d'Italia. Però magicamente sono anni che si è bloccato. Perché si è bloccato? Perché sono cambiate le modalità di trasporto utilizzate soprattutto dalle navi container. Quando guardiamo il porto di Napoli noi dobbiamo tenere conto che il porto di Napoli è un porto multisettoriale. Oggi sta andando benissimo i croceristi. Ad esempio qualche giorno fa ho avuto modo perché poi ho contatti anche diretti e Napoli da un punto di vista croceristico quest'anno chiuderà con un milione e duecentomila visitatori l'anno prossimo avrà un milione e quattrocentomila visitatori e crescerà ancora. Se la città fosse in grado anche di accoglierli questi visitatori sarebbe ulteriore sviluppo. Questo però accade a occidente. Ad oriente il porto di Napoli invece si è incagliato in un sistema che lo ha bloccato. Perché è accaduto questo? Perché il porto di Napoli si va a incastrare e qui poi quando verrà Luigi Grosso che ora si è allontanato lui potrà spiegare bene qual è il sistema che sta anche alimentando il blocco del porto di Napoli che è Napoli-Est, cioè questo territorio. Perché Napoli-Est, la zona orientale di Napoli fino a un po' di anni fa aveva non solo i depositi di carburante, gas, chimici ma addirittura aveva le raffinerie. Poi ci fu un grave episodio negli anni 80-85 lo scoppio dell'agipo ma contemporaneamente ci fu anche il problema con la raffineria che stava a viaggine. Quindi hanno capito che avere i petroli nel territorio è pericoloso per due ordini notevoli. Il primo perché se scoppiano può venire fuori una catastrofe veramente di notevoli dimensioni. Il secondo è l'epidemia logica. L'epidemia logica perché non a caso nella zona di Napoli-Est e non solo, anche nella zona che poi va nel centro di Napoli è molto alta l'incidenza dei tumori. I petrolieri non sono persone che stanno fermi ma i polmonari sono quelli più vicosi. Ma che cosa succede? Succede che nel 2012 l'autorità portuale che è l'ente più importante che va a dirigere un po' le sorti del porto di Napoli e che dovrebbe essere composto da persone nominate per concorso pubblico invece è composto in buona parte da persone nominate su indicazioni politiche. Quindi un ente pubblico non economico che dovrebbe essere l'arbitro del porto di Napoli è un arbitro molto condizionato quindi sull'indipendenza dell'autorità portuale noi la mano sul fuoco non la possiamo mettere. Questo episodio però non è stato denunciato. È stato fatto che questi signori in buona parte sono stati nominati tra il 2003 e il 2008 quindi parliamo di quasi 50-54 persone sugli 89 quindi la maggioranza. Chi li ha nominati? Li ha nominati Nerli. Le segreterie. Li ha nominati Nerli. Esatto. Con la regia di D'Alema con le connivenze della CGL che sono gli stessi che oggi stanno cercando di darmi fastidio ma non ci riescono perché per fortuna io comunico. Quindi l'elemento più forte per evitare di essere bloccato è comunicato. Buonasera. 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 Ciao. Daniele. No. Allora io ho già chiamato in causa. Ciao Daniele. Ciao. Daniele. Luigi Grossi. Perché è buona cosa. Al di là un'altra cosa visto che Gennaro sta registrando e fa benissimo allora si è creata ultimamente una diatriba secondo me diciamo trova il tempo che trova tra i tecnici e non tecnici. Allora sostanzialmente qualunque voce farà il movimento noi siamo cittadini che spontaneamente si fanno un cuore così quindi noi alimentiamo i temi poi se i temi avranno una dignità politica saranno i portavoce che li faranno diventare tali però fondamentalmente un problema lo puoi capire se entri nel problema poi lo vai a condividere io potrei dire delle sciocchezze sperando che qualcuno lo possa contraddire o addirittura migliorare o criticare ma facciamo questo quindi non è che uno porta una conoscenza e diventa il re della conoscenza sarebbe una cosa delirante non mi appartiene e spero di non arrivare a quel livello perché poi dopo vado da lui e mi faccio ricoverare per la clinica psichiatrica quindi bene o male la necessità di collaborare tra chi conosce determinati argomenti e ha la necessità di altri che conoscono gli argomenti perché io potrei parlare del porto di Napoli per parecchio tempo però quando vado a cozzare con il vero problema del porto di Napoli che è Napoli Est poi passo la palla in questo caso a Luigi Grosso poi ci saranno altre persone che sapranno parlare meglio di noi di porto di Napoli Est però i due argomenti vanno conosciuti quindi porto di Napoli il problema è Napoli Est il problema è che esista in Napoli Est il più importante polo petrolifero d'Italia quindi significa che i petrolieri non hanno nessuna voglia di andarsene anche se esiste un piano regolatore variabile del piano regolatore generale 2004 che prevede l'allontanamento dei petroni da Napoli Est però approvato nel 2004 e non ancora attuato per attuare questo piano regolatore che tu mi sta parlando che cosa potremmo fare per fare in modo di parattuare questo piano regolatore bella domanda per parattuare via i petrolieri chiedere di legno all'esecutivo all'amministrazione locale chiedere di legno all'esecutivo all'amministrazione locale il problema è di una semplicità assoluta ma è di una complessità estrella allora innanzitutto che penso che il problema sia l'ampliamento sì quella zona là dentro il cantiere da una domanda e passano io allora innanzitutto l'ampliamento dello Stato lo Stato l'autorità portuale di Napoli è anche delle aree dello Stato ed è controllato dal Ministero dell'Infrastruttura da adesso il Ministero dell'Infrastruttura e Stato è lavorato il proprietario Stato allora praticamente i porti i porti rappresentano per l'Italia secondo una serie di meccanismi che fanno capo all'Europa una condizione strategica per la nazione per cui c'è una struttura molto elaborata che nasce dal Bruxelles che gestisce le vie del mare le vie di comunicazione nelle vie addirittura ci stanno gli elettrodotti ci stanno le nave ci stanno c'è tutto praticamente quando un'attività deve essere lanciata in un terminale e ti ringrazio che in questo caso si porta le dieci stanno a quale arrivano a andare per il gas? anche quelle anche le reti stanno anche qui il gas.Italia-Libbia fa parte delle reti strategiche per l'Europa attraverso la vita italiana la vita italiana strategica noi strategicamente siamo molto strategici per l'Europa perché attraverso noi abbiamo l'area terminale verso il Mediterraneo ma abbiamo degli elettrodotti interrati verso l'Albania abbiamo i metanodotti dall'Africa i metanodotti dalla Jugoslavia che attraverso il Balcano per cui noi strategicamente verso l'Europa rappresentiamo qualche cosa di molto importante ecco questo significa che quando bisogna fare un'operazione in un terminale in questo caso nel porto di Napoli c'è tutto un meccanismo dietro che ha autorizzato questo meccanismo gerarchicamente prevederebbe lo Stato la regione la città la città di diretta dipendenza perché non è possibile creare un porto ma non c'è una infrastruttura dietro al porto allora a Napoli esistono due condizioni esiste una condizione che è stata generata da un progetto industriale che è nato a giugno del 2014 che ha generato una presentazione ufficiale all'interno della quale ci sono tre aree strategiche di sviluppo fondamentale la prima è la mobilità a secondi sono le industrie e la terza sono le opere pubbliche tutto questo pacchetto vale 22 miliardi di euro questo pacchetto è stato in una famosa conferenza che ci vanno io da mille e quattro notti è stato presentato quando si è scusso a Caldoro e quando Caldoro si è visto perdendo le elezioni è stata presentata a De Luca in tutto questo camera di commercio Unione industriale e costruzione insi hanno presentato tutti fatti un convegno hanno fatto una manifestazione hanno fatto delle pubblicazioni hanno fatto una serie di progetti in tutto questo meccanismo investivano loro quindi due miliardi o erano fondi europei no è tutta una serie di investimenti privati ad esempio Napoli Est buona parte sono investimenti privati non sono investimenti qua in un centro direzionato io direi fatemi finire e dopo fate le domande dicendo dimmi ma dimmi poi dopo l'agenzia Trevi non è un'agenzia un'impresa allora la Trevi sta facendo un'altra tipologia però che non c'ha sex un convegno poi dopo allora per esempio l'avviamento del centro direzionale che è una parte già data in concessione la cui è stata valorizzata l'anno scorso fanno 100 milioni di euro questi 100 milioni in una parte sono privati ma non è tutto però il privato è autorizzato in concessione il suolo può costruire e di questo il suolo fa realizzare i palazzi che può vendere cioè qui alla base una serie di iniziati sono privati però il privato può speculare perché per esempio tutti i recuperi dell'area ex-industriale raffineria prevede 6 milioni di metri cubi di nuovo costruito da mettere sul mercato e vendere chiaro? allora tutto il meccanismo fa abbastanza cose in questo meccanismo a Conatec Asia non ci stanno annamoriti perché annamoriti? perché in pratica manca un vero e proprio piano di sviluppo industriale che non deve riguardare solo Napoli o Napoliero ma deve riguardare tutto quello che interfaccia regione campania verso il mare e naturalmente regione campania il mare adesso non basta fare il progetto per il porto chi vuole il progetto per il porto che deve collegare il turista con l'aeroporto che deve collegare il turista con il treno tutto questo non ci stanno non ci stanno non è neanche una cosa che la ricerca è una cosa che esistono dei piani indizionali però alla fine non c'è niente allora stanno questo perché per due motivi perché non c'è perché c'è un'assoluta deficienza da parte dello Stato il ministero che dovrebbe spingere queste situazioni non spinge i politici locali non hanno interesse diciamo la verità diciamo la verità 22 miliardi di opere servono in pratica ma 7,4 miliardi di euro una legislatura regionale che si basa su una condizione economica del genere ma cosa non posso dire a mille posti di lavoro 100 posti di lavoro 100 posti di lavoro 100 posti di lavoro è più facile per loro dare un'autorizzazione per costruire un villaggio turistico per costruire un'autostrada per costruire un'infrastruttura o che di favorire un altro tipo di sviluppo che è quello che si servirebbe a chi dopo non dica questa è la situazione il piano regolatore allora il piano regolatore del porto dovrebbe riguardare il porto ma anche le interconnessioni e le interferenze con il porto e qui non è che il porto riguarda i petrolini praticamente teoricamente il porto dovrebbe ricedere dallo stato delle indicazioni dalla regione in realtà in realtà ho letto il piano regolatore allora il piano regolatore portuole di che è stato fatto perché attualmente è in vigore quello del 1952 addirittura parliamo del dopoguerra del dopoguerra che cosa succede quando nel 2004 viene fatto l'adeguamento al piano regolatore generale con questa variante la variante che poi è pesante l'ha fatta Gervolino l'ha fatta Gervolino doveva essere fatto è stato fatto allora che cosa succede quando tu a livello cittadino nel piano regolatore metti la delocalizzazione dei petrolini il porto di Napoli che è alla darsena petrolini non ha motivo di chiesto quindi è stato fatto un'azione qualcuno dice una forza tua è stato fatto è stato fatto questo piano regolatore che si basa su quattro elementi caratterizzati e uno di questi è la sicurezza è la sicurezza cioè l'allontanamento graduale delle navi che non potranno più attraccare nel porto di Napoli ma dovrebbero andare nel golfo con delle pipeline cioè delle boe galleggianti e scaricare e scaricare praticamente questo è ciò che riguarda il porto però attenzione quello che dice Vincenzo non si basa su uno studio accurato e strutturato ma si basa su un'idea di sviluppo che terrebbe delle conto dei Piano dei Valori di Napoli che in pratica è andato in variante nel 2004 il Piano dei Valori di Napoli ha dato degli indirizzi e ha fatto bene il porto deve intervenire questa cosa però attenzione 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 non è che il porto si sveglia e dice le petroniere se ne vanno a tutti è Roma che dovrebbe dare degli indirizzi e che cosa vorrebbe dare allora le forze politiche allora innanzitutto ci vorrebbe noi da Napoli zero dalla regione zero dovrebbe essere un'azione combinata tra Napoli regione e Napoli città un'azione che tenda a a indirizzare a un vero piano di sviluppo che non c'è perché al momento allora facciamo un esempio al momento oggi esistono tre bicchieri pieni d'azzo teoricamente ci vuole qualcuno che dice mi chiamo sta bottiglio e poi si va quindi a che sta bottiglio poi dice che non esiste ma pestalu ogni parte vorrei comunque vincita non non Il problema è un altro, ma il problema è un altro. Il problema è di ordine di resto, perché se a De Luca qualcuno gli ha contenuto un pacote che vale 22 miliardi. E' stata un'azione che teoricamente De Luca. Ma se fosse un Presidente che per agire in modo giusto dovrebbe rompere le scatole a Roma, farsi dare i mandrizi da Roma politici e agire per essere bene. Quindi noi non possiamo fare nulla questo. E lo sai bene che lo parla dai? Perché inizia la cera è completamente zero. Dobbiamo avere un piano regolatore alternativo. Ma ce l'avete il numero di... Noi da Roma dovremmo spingere affinché gli indirizzi fossero dati e poi spingere la navola... Noi non possiamo tracciare... L'idea di variante. L'idea di variante. Tu costruisci la variante. Ma se non è l'appoggio... Tu fai una stazione. Ma se la politica... Tu dici che i treni andano a rivendere la stazione. Ma che fai a fare questa stazione? Non è un discorso fare la stazione. Allora se abbiamo ben capito bisogna avere delle linee guida... Bisogna avere... Dalla politica nazionale. Bisogna avere... Dalla politica nazionale attesa. E allora deve essere il presidente della regione. Affinché la regione potesse... Si deve... Si deve muovere in una certa direzione. Che deve essere stabilita a livello locale. E poi come gestirla questa direzione. E questo è quello che rimane. Quando si parla di piano regolatore non è semplicemente dire dove voglio mettere il palazzo. Io devo fare un palazzo ma quel palazzo si deve sostenere, deve diventare produttivo. Per cui ci vuole l'occupazione, il finanziamento, l'attività. Ci vuole l'accordo politico con l'Argentino che manda andare a Napoli. Ma manda andare a Napoli. Il turistico arriva a Roma e arriva a Napoli per cambiare a capo. E' tutto un meccanismo abbastanza complesso. Figliamolo qui e se canta e facciamo un progetto. Scusa, non so se Luigi l'ha detto, il piano regolatore... E' vero che lo vedici qui, però e' anche il messaggio di oggi, che si vincesse a un movimento, se le vincesse le elezioni. C'è, noi che cosa facciamo? Praticamente stiamo ancora a zero sul tema del genere. Cioè, se noi invece, come dice Gaetano, noi iniziassimo a creare... Ma no, ma noi di questi dei, noi di questi dei stiamo parlando da anni, noi stiamo parlando da tre anni stiamo parlando di Napolese. Di Napolese sappiamo tutto. Il progetto, in questo momento, per quello che è stato fatto su Napoli S, il progetto è fare il modo che non si spegni. Perché Napoli S oggi, come è progettata, è tutta una spegnazione. C'è tutto un qualcosa che qualcuno prende dei soldi pubblici, l'investe si mette dei soldi in gas. Perché c'è una cabina di legge... Perché ci sono più cabine di legge. Però l'alternativa non ha bene. L'alternativa sarebbe... Le alternative si stanno pensando, come si sono pensate per Bagnoli, come si sono pensate per Città della Scena. Le alternative sarebbero di evitare queste spegolazioni. Questo già potrebbe essere un primo passo. Per esempio, a Napoli manca un piano regolatore. Cioè, a Napoli, nel 2004, non hanno fatto questi progetti basandosi su un piano regolatore. Ma hanno fatto questi progetti basati su una variante di piano che è intervenuta sull'80% dell'intero superficie del territorio cittadino. Che è una grossa anomalia. Cioè, in pratica, hanno preso il vecchio piano, l'hanno tagliato a pezzi e l'hanno ricomposto secondo questi meccanismi. E questa è già un'anomalia. Perché già, ancora oggi, teoricamente, se qualcuno si sveglie e volessero su uno stadio a viaggio, teoricamente lo potrebbe ancora fare. Perché il piano lo consentirebbe. E queste sono le anomalie che noi possiamo controllare. Per soddisfare gli appetiti delle cliente e le pertenitori. E noi qua possiamo intervenire. Perché in qualche caso già siamo intervenuti. Già qualcosa è stato fatto. E già le conoscenze si notarebbe. Parlare del porto oggi è già un qualche cosa che va oltre. Posso un attimo? Ad esempio, l'incontro che c'è stato in Regione, dove abbiamo partecipato io e Roberto Giunta e i tre consiglieri, i nostri portavoci. Malerba, Marimuscarà e Gennaro Sagliello. Ad esempio, il Legoria dei Feo, che è l'amministratore della Conateco, ha fatto neri tutti, o non se ne è scansato uno, a livello locale. Regione, comune, sindacati, operari. Però non ha mai alzato il tiro a livello governativo. Aveva paura. Aveva paura. Perché, lo ripeto, i comitati portuali, gli incontri che ci sono stati in questi giorni, sono sempre stati accompagnati da qualche telefonata, o romana o internazionale. Quindi, l'argomento Petroli spaventa. Spaventa anche i potentati. Allora, il problema... Scusami, Luigi. Quando hanno provato a fermarmi, perché, ad esempio, è capitato oggi che l'assessore Panini, con il quale mi sono accompagnato, devo dire, lui è una persona anche attenta, perché sa che io ho le informazioni e lui, ovviamente, gli fa piacere poter intervenire con qualche informazione in più. A un certo punto gli è arrivata una telefonata, e qui puoi riprendere, della CGL, dicendo che nel porto di Napoli lo stavano aspettando OpenAI e parlamentari 5 Stelle. Cioè, volevano screditare l'informazione che aveva avuto tramite di me, facendogli capire quasi quasi che fosse stata, sarebbe stata un'imboscata politica. Cosa che assolutamente non era vero. Per di più gliel'aveva pure detto. Quindi, problemi, trasparenza totale. Il piano regolatore portuale, che è stato poi approvato, presentato dalla proprietà portuale, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, doveva fare un passaggio nazionale. Cioè, doveva andare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo documento è stato fermato con due riserve. E' stato bloccato. Allora, questo blocco... Dobbiamo uscire sulle due riserve. Le due riserve, che è successo? Le due riserve è una caterbata di ricorsi amministrativi dei petrolieri. Perché in tutti i tavoli di trattative territoriali non vedrete mai un petroliere che sta a quel tavolo a dire questo non si fa. Il petroliere agisce ovviamente dove c'è la linea di comando. lo fa a Roma. Gli operai della Conateco, quando hanno chiesto che qualcuno di loro è attivista cinque siete, si sono avvicinati. La prima cosa è che quando sono venuti da me e ho detto attenzione, il tuo problema ha un effetto locale, ma una causa che la devi andare a cercare minimo minimo a Roma. E quindi piano piano hanno cercato di capire. Ovviamente non stanno arrabbiati perché in questo momento qualcuno gli sta bloccando, ma l'hanno chiamato perché gli stanno bloccando. E' tornato a Napoli in autorità portuale, ma praticamente è rimasto l'estra morta da due anni a questa parte. Allora, innanzitutto il piano regolatore dobbiamo pagare? Il rapporto c'ha due problemi. Ma ci dobbiamo spostare da qualche altra? Non lo so. E' un problema. Continuiamo da qualche altra parte dopo. Eh, allora aspetta.